Musica Chiudiamo questo nostro spazio dedicato allo spettacolo con l'anteprima di Full Moon performance scritta, diretta e coreografata da Luca Papa tra atmosfere dark e citazioni cinematografiche Musica Vi vogliamo far conoscere un talento emergente sulla scena della danza a Roma, si chiama Luca Papa, ha 28 anni e ha deciso di mettersi in proprio per portare avanti una sua idea di spettacolo in cui convivono danza, canto, teatro, gestuale Musica Un genio dell'arte futurista Benvenuto a Luca Papa Un genio dell'arte Un genio dell'arte Un genio dell'arte Un genio dell'arte Grazie per la visione!